Musica Palazzo di città, incontriamo il sindaco Barbagallo, oggi ci sono delle novità sull'Atari, si riferisce forse a tariffa, isola ecologica, a che cosa? Ma ci riferiamo al piano Tari nel 2017, come sapete nel 2017 febbraio è cambiato il sistema di raccolta e in questo cambiamento abbiamo aspettato prima di andare a verificare il piano economico finanziario, dai dati che ci sono giunti e arrivati dall'ufficio, per questo ringrazio Ghetano Pennisi e tutto l'ufficio che si occupa di tributi, dai dati arrivati qualche giorno addietro abbiamo redatto e firmato una delibera di giunta che presto arriverà in Consiglio Comunale a dicembre e nella previsione, ma ormai siamo a fine anno quindi di fatto, ci sarà una riduzione pari al 30% per tutti i cittadini rispetto al 2015 e il 20% rispetto al 2016. Cioè nel 2006 c'è stata una riduzione del 10%, quest'anno l'abbiamo raddoppiata, siamo arrivati al 20%. Questo arriva perché intanto vogliamo ringraziare tutti i cittadini che con grande spirito civico da febbraio fanno e continuano a fare la raccolta differenziata, c'è un incremento notevole della raccolta di plastica, vetro e carta, quindi un risparmio perché non si conferisce in discarica, anzi questi prodotti vengono venduti. Siamo ad una percentuale molto elevata, in questo momento l'attestazione è intorno al 32% o 33%, ma è un'attestazione falsata perché ancora abbiamo problemi e difficoltà, non solo noi, tutti i comuni della regione siciliana nella discarica dell'umido, cioè l'umido in questo momento viene, come dire, scaricato, viene portato appunto in discarica e questo fa abbattere, scendere notevolmente la percentuale appunto di raccolta differenziata e non solo fa anche pagare somme in più ai comuni, ai cittadini, a tutti noi. Quindi speriamo che il nuovo governo si occupi immediatamente della realizzazione delle infrastrutture per l'umido in maniera tale da dare un servizio ottimale a tutta la cittadinanza. La notizia di oggi è appunto che c'è questa riduzione del 30%, una riduzione su tutte, sulle famiglie, sulle imprese e di conseguenza non possiamo che essere, come dire, felici, contenti, ringraziare i cittadini, ringraziare l'assessore Fichiera, ringraziare gli uffici per l'ottimo lavoro svolto in quest'anno.